Ciao allora, speculazione o investimenti sicuri? Che cosa scegliere per arrivare a un processo di patrimonio, per arrivare a moltiplicare il patrimonio in maniera, semmai un pochino più veloce e in maniera accertata? E' meglio la speculazione o gli investimenti sicuri? Quali sono i lati positivi? Quali sono i lati negativi che molte persone non sanno, soprattutto quando si approcciano alla speculazione? Vediamo tutto in questo video. Ciao allora, io sono Massimiliano Cera, da molti anni aiuto le persone, i liberi professionisti, gli imprenditori, i dipendenti a raggiungere un contesto economico, un programma finanziario autonomo vincente, aiuto le aziende a patrimonializzarsi, a capitalizzare, a creare aziende patrimonializzate e creare società di investimento, quindi da tanti anni veramente aiutiamo le persone, gli imprenditori, le imprese, abbiamo creato noi stessi, io stesso ho creato delle società di investimento, io stesso mi muovo, ho una start-up innovativa nell'ambito degli investimenti, quindi da molti anni veramente aiuto, aiutiamo le persone e gli imprenditori a raggiungere questi risultati. E proprio a fronte di questo dobbiamo parlare, oggi dobbiamo parlare in maniera seria e importante, di speculazioni o investimenti sicuri. La speculazione sono quegli investimenti dove si tenta di fare un po' il colpo gobbo, ok? Dove guardiamo la nuova criptovaluta venuta fuori, o ci mettiamo dentro a strutture, opzioni o mercati non regolamentati, società non quotate che si trovano in paesi un po' strani, ok? Gli investimenti sicuri, tra virgolette sicuri, nel senso che sono titoli in mercati regolamentati che semmai possono avere delle movimentazioni, delle oscillazioni di prezzo, ma si trovano in mercati regolamentati, sono controllati dalle entità statali, sono controllati dalle entità internazionali, sono controllati dalle banche centrali, per cui sono investimenti che sono titoli immobiliari, che sono delle proprietà vere e proprie, ok? Quindi si parla di investire in mercati non regolamentati. Quando siamo sulle speculazioni, spesso siamo sui mercati non regolamentati. Allora, punti negativi dei mercati non regolamentati. Ascoltami bene, guardami bene. Prima di fare un investimento, prima di muoverti per movimentare il tuo patrimonio, il tuo capitale, sappi una regola principale, che è una delle regole must di Massimiliano Cerra, o meglio, attento e non investire mai il tuo denaro quando il prezzo da pagare per il tuo errore è l'intero capitale. Stai molto attento perché non fa parte di un corretto e intelligente processo di patrimonializzazione, che tu lo voglia fare per il privato, che tu lo voglia fare per la tua azienda. Dai sempre un occhio, soprattutto quando siamo in mercati non regolamentati. Uno, i mercati non regolamentati, quindi siamo nell'ambito delle speculazioni, quindi siamo nell'ambito, ad esempio, un mercato classico, molto conosciuto, non regolamentato, ad esempio, speculazione nel mercato non regolamentato, sono le criptovalute. La criptovaluta è in un mercato non regolamentato. Non ci sono assicurazioni, c'è un crack, c'è un problema, il wallet, la banca, chiude i battenti, ha avuto un problema, c'è stato un hacker che è intervenuto, niente, soldi non ci sono più, ok? Sono spariti, sono andati dentro all'interno di una serie di algoritmi alfanumerici. I soldi non ci sono più. A chi faccio causa, a chi mi muovo, non lo so. Le criptovalute tirate fuori da pseudosoggetti di cui non si conosce bene che cosa stanno facendo, ti diranno, c'è stato un hacker, ti diranno una serie di cose, ok? Mercato non regolamentato, niente assicurazioni, niente certezze, niente di niente, attenzione, ok? Prima problematica. Due, non ci sono controlli, ok? Non c'è un controllo, non c'è una movimentazione, non ci sono quindi delle banche centrali, non ci sono delle entità che possono intervenire, perché ci si muove all'interno di algoritmi alfanumerici, numeri alfanumerici, per cui andare a dire che c'era una truffa, non c'è una truffa, sì, no, in un mercato non regolamentato, dove non puoi telefonare nessuno, non puoi intervenire, il problema diventa veramente molto molto serio, ok? Non ci sono situazioni di controllo, ma non è soltanto questo. Non ci sono interventi regolativi. Regolativi. Avete visto come le banche centrali, ad esempio, quando nei mercati regolamentati ci sono delle banche che rischiano il default, rischiano il fallimento, cosa fanno? Le banche centrali intervengono, iniettono liquidità. Gli stati stessi intervengono per fare il salvataggio delle banche, il salvataggio della struttura finanziaria, ok? Così come se hai dei soldi, ad esempio, sul conto, la banca dovesse avere dei problemi, hai fino a 100.000 euro, diciamo così, assicurati, che ti vengono restituiti, ma non solo. I titoli che hai all'interno dei mercati regolamentati, i titoli, sono titoli mobiliari di tua proprietà, quindi anche se la banca dovesse avere delle problematiche, o il broker, o colui che custodisce, dovesse avere delle problematiche, i titoli sono tuoi, vengono trasferiti da un'altra parte, per cui questi sono i mercati regolamentati, i mercati non regolamentati, fallisce l'entità, c'è un problema l'entità di custodia, soldi? Non ci sono più. A chi telefono? Nessuno, ok? Attenzione. Punto numero 4, qui siamo al punto cardine, l'insider trading. L'insider trading è quando ci troviamo in un contesto in cui una persona che ha un grosso potere mediatico, e un grosso e dei grandissimi capitali, può movimentare il mercato a suo piacimento. Che cosa significa? Che io oggi potrei avere delle notizie, o espandere, andare a divulgare delle notizie, su, quindi ho, ad esempio, ho tante azioni di Coca-Cola, benissimo, oggi che faccio? Me le vendo, voglio vendere delle grandi quantità, dicendo, andando a dire che Coca-Cola ha dei grandi problemi finanziari. Io ho bisogno di vendere, ho bisogno, chiaramente, ho bisogno di vendere, inizierò a creare una serie di persone che iniziano a fare il panico, entrano nel panico, entrano nel panico, e io che cosa faccio? Vado in fondo, ricompro a prezzo stracciato, dopodiché quindi avrò sfruttato il panico delle persone, e a un certo punto che cosa dirò? Che il problema si è risolto, tutto a posto, i numeri sono migliorativi, e allora inizierò a comprare, tirando sul prezzo in maniera artificiosa con i grandi capitali, quindi potere mediatico, come vedi, i grandi capitali che posso iniettare sul mercato, ritiro sul mercato, ritiro sul prezzo, e faccio delle movimentazioni economiche senza controllo, sfruttando il mio potere di capitale, il mio potere mediatico. Questo è insider trading puro, è previsto l'arresto, è prevista la galera nei mercati regolamentati. Nei mercati non regolamentati, nell'ambito delle speculazioni? Assolutamente niente. Quindi siamo all'interno di un contesto in cui Elon Musk, della situazione, vi ricordate Elon Musk un giorno diceva il bitcoin è buono e il bitcoin saliva di brutto, poi diceva no aspetta, ne ho venduto una grossa parte e il bitcoin crollava, ok? Molto probabilmente c'era lui stesso ad aver messo un po' di capitali sotto, un po' di capitali sopra, un po' qui, un po' di là, e a movimentare, qualcuno può dire niente? No, perché siamo all'interno di mercati non regolamentati, dove entra in campo chi ha grossi poteri a livello mediatico, a livello di capitali, e tu sei all'interno di questo contesto di movimentazione senza alcun tipo di controllo. Punto 5, pochi capitali. Speculazione, quanti soldi mi metti? Tutti i soldi che hai? No, vero? Metti solamente una piccola parte? Hai 100.000 euro, hai 150.000 euro, c'è una speculazione dove potresti fare il colpo gobbo, ma potresti perdere tutto? Allora che cosa fai? Metti pochi capitali, metti 5.000 euro, metti 7.000 euro, bene, quanto hai fatto? 50%? Il 70%? Bene, quant'è? Altri 4.000? Altri 5.000? E questo è il colpo gobbo? Questo è quello che ti aspetti, a meno che non ti prendi una cosa che fai il 3.000% nel giro di brevissimo tempo, ma anche lì io sfido a vedere le persone che hanno dei risultati così ampi, poi vedono delle oscillazioni a non vendere prima, quindi difficilmente ne vai a prendere tutta quella parte lì. e poi dopo che cosa fai? Dopo che cosa fai? Quindi dovresti fare un colpo gobbo, quello fuori dal mondo, mettendo pochi capitali, è vero? Perché altrimenti il 50% di un piccolo capitale è niente, giusto? Io sento persone oggi, ad esempio si dice che il bitcoin arriverà a 100.000 e tu ti dici, arriverà a 100.000 è forte, ma se in questo momento è a 60-65.000, arrivare a 100.000 è circa il 40%, se tu mi metti dentro una piccola capitalizzazione, il 40% di 5.000 euro, di 7.000 euro, di 10.000 euro, quanti sono? Altri 3.000? Altri 3.500? Altri 4.000? Cioè questa è la speculazione a fronte della possibilità di perdere tutto? E dopo che cosa farai? Le persone che entrano nell'ambito della speculazione, se gli va bene un mezzo colpo gobbo, che cosa faranno? Non si arrendono, giusto? Non si fermano, andranno a reinserire cercando il colpo gobbo successivo e che cosa avverrà? Che se non hanno avuto la grossa fortuna la volta prima, ma siamo in un mercato non regolamentato, siamo nel pieno insider trading, siamo dove non ci sono interventi regolativi, dove non c'è niente di niente, saranno in preda al far west di questi movimenti. Il patrimonio è sacro, il capitale è sacro. Inseriscelo sempre in un processo costante, concreto, regolamentato per raggiungere, semmai in un tempo un po' maggiore, ma raggiungere i tuoi obiettivi in maniera certa e determinata. Vuoi fare una parte di speculazione? Perché no? Io non ne faccio più ormai, non faccio più delle speculazioni, nonostante ho dei risultati molto ampi, e proprio perché ci sono risultati molto ampi, nei mercati regolamentati, perché andare a rischiare l'intero capitale. Quindi ripeto, se io devo andare a rischiare l'intero capitale, come rischio del mio errore, è un investimento che io oggi non scelgo, e se non lo scelgo io, che ho oltre 28 anni di esperienza, e ho creato quello che ho creato, consiglio a tutti di avere un occhio di riguardo, perché il patrimonio è sacro, il capitale è sacro, facciamolo crescere in maniera intelligente, e togliamoci da tutti questi contesti, che sono contesti dove noi non possiamo mettere mano, sono incontrollati, se capita qualcosa non possiamo nemmeno far niente per intervenire, non possiamo far niente per far valere le nostre ragioni, le nostre assicurazioni, molto 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 importante, il patrimonio è sacro, il patrimonio è tutto, parola di Massimiliano Cerra, da oggi, dopo di questo video, se vuoi speculare, fallo al massimo con il 10% del capitale, sapendo sempre che un piccolo capitale, anche con una grande percentuale, è sempre un altro piccolo capitale, che molto probabilmente dopo proverai a fare altri colpi gobbi, per cercare di far crescere sempre di più, e ti troverai una girandola di situazioni dove, 9 volte su 10, e voglio essere buono perché sono 10 su 10, molto probabilmente perderai gran parte dei capitali, occhio, orecchio, ascolta Massimiliano Cerra, ascolta le regole, ci vediamo al prossimo video, e adesso sta a te, speculazione, o investimenti sicuri, a te la scelta.